ciao ciao salve come stai un po sorpreso beh anch'io cioè non pensavo proprio scusami se ma no no figurati ma ti vedo magnificamente come stai bene e grazie tu bene bene quando sei tornato non molto un paio di settimane giusto in tempo per natale già si per natale si come è andata bene bene ti ho pensato quando eri lì si è andata abbastanza bene cioè intendevo dire ti ho pensato perché mi chiedevo come ti stava andando sai non è che ho trovato proprio quello che mi aspettavo lì ma sai com'è sì certo mi dispiace non averti visto la sera che sei partito mi dispiace avrei voluto salutarti ma bene ma non importa avrei voluto ho tentato però purtroppo guarda non devi scusarti eh non intendevo scusarmi non è questo ma non avrei dovuto chiamarti quella sera è stato proprio uno sbaglio a me io ero così affidito ero confuso non avevo proprio idea sì certo beh comunque però ti trovo bene insomma come va bene bene grazie e come va la famiglia bene bene tirano avanti e mike no lui peggiore poverino e joe no sta bene cresce senza problemi ma senti ma come sta brian si sta è stato un po abbiamo avuto però è passato adesso bene è stato bello averti rivisto sì ma scusami ma ora devo proprio andare sì certo stai bene sì sì certo anche tu grazie ciao ciao frank buon natale ah sì buon natale sì ciao